La vocalist Valentina Crudo, originaria di San Calogero, si è risvegliata da un coma a seguito di un incidente stradare terribile che aveva subito lo scorso 20 agosto del 2023, quando al ritorno da una gita insieme ai parenti alle cascate di Bivongi il destino si è accanito sulla giovane. Nello scontro violentissimo nel viaggio di ritorno persero la vita sua cognata, la giovane avvocata di San Calogero, Antonella Teramo, e la sua bimba di tre anni, Maya. E poi anche il conducente dell'altra vettura, che ricordiamo era il giovane imprenditore della ristorazione Domenico Politi, mentre Valentina rimase ferita insieme alla figlioletta Fatima di tre anni. All'epoca fu trasportata nell'isoccorso al gom di Reggio Calabria in condizioni davvero critiche, tant'è che per un periodo rimase appesa tra la vita e la morte. Successivamente trasferita Valentina nel centro di risveglio dell'Istituto Sant'Anna di Crotone, dove fino ad oggi ancora si trova ricoverata. La sua vita appesa ad un filo. Oggi la bellissima e straordinaria notizia, Valentina si è risvegliata da quel coma profondo. Ora è fuori pericolo. Ovviamente i tempi per la guarigione completa saranno lunghi, ma Valentina è ritornata a sorridere, è ritornata alla vita.